Il giudice sportivo della Lega Nazionale Direttanti Pietro Accurso, in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari. Nel cambiato di eccellenza, tre giornate a Matteo Bisogno del Casteldaccia, Giovanni Pace della Don Carlo Misilmeri e Stefano Modica della Leonfortese, per atto di violenza nei confronti di un avversario. Una giornata invece a Federico Ricchichi del Gela e Alessio San Giorgio della Leonzio. Nel cambiato di promozione, una giornata a Francesco Russo del Caggi per contegno riguardoso ed offensivo nei confronti degli ufficiali di gara. Intanto, le squadre Nissan si stanno preparando per i prossimi incontri del fine settimana. La Nissa sarà impegnata a Casteldaccia dello scolificato Matteo Bisogno, ex biancoscudato, per cercare di centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Gela a Siracusa contro il Real Belvedere prova anch'essa a bissare la vittoria dopo la vittoria al Vincenzo Presti domenica contro il Paternò. E il Real Suttano in casa contro Aci e Galatea per provare a centrare la prima vittoria in campionato dopo il passo falso sul campo del Belpasso.